Musica Bella ragazzi, ciao a tutti e sono qui tornato con voi ancora una volta con un nuovo video di Fortnite Questa volta ragazzi è un po' diverso dal solito perché abbiamo provato a crearci degli smurf Gli smurf che cosa sono? Sono account creati da zero per cercare di capire se c'è un matchmaking nel gioco Il matchmaking per chi non dovete saperlo è quella cosa che ti fa trovare gente nel tuo livello Perciò ovviamente solitamente giochiamo con account io all'80 power al 100 Questa volta io ho un account al 19 power direttamente al 2 Perciò vedremo se è realmente più facile rispetto alla gente che trovi oppure no Questa partita ragazzi l'ho registrata in live su Twitch dove sono in live tutti i giorni Perciò se vi va è il primo link qua sotto in descrizione Iniziate a fare un salto e lasciate un follow in modo tale che vi arrivi la notifica quando sono in live stream Ragazzi spero che questo video vi piaccia e vi è sorto a lasciare un bel mi piace e vi lascio al video Ragazzi stiamo con questa account perché stiamo provando se c'è un matchmaking Bravo Marzano Le pistole sono a merda Bravo Marzano Finiscilo finiscilo Bravo Marzano Non l'ho sentito con l'audio Marzano fermo là fermo Fermo Io da qua Ho le bozzette Sì è quello c'ha l'ainbow bro Uno non cado Queste pistole sono la chiavica Queste pistole sono la cosa più brutta che abbia mai provato Mi devi arrivare dai mano queste cazzo di pistole subito Mi sembra di stare con un bambino disagiato no Gio sono a merda si è molla quella pistola che schifo porco Gio è un animale ce l'ho già ce l'ho già l'herbe quanto cazzo sono di più è il migliore comunque marzo come mai ho crebato da rire come hai fatto l'altra ma perchè usano le trappole nel 2018 ti hai tirato pure la sdorpa assolutamente si che bestia di sad scimmione ritardato no che non mi dici un cazzo scimmione ritardato che c'è te lo meriti anche sei un pezzo di merda sei un pezzo di merda ci meritiamo di morire questa partita lo sai prende per il culo a me prendo per il culo a te mi aspetto che uno mi avverta invece di stare zitto in silenzio a fare un cazzo ma se per poco non ci morivo proprio ragazzi no veramente non sto scherzando quando non hai in mano il tuo di account diventi un po' più ritard è normale sicuramente io sì dove andiamo? dove ti porta il cuore? oh eccoli oh che vuol dire? di fronte a noi oh lo vedi in acqua dai ma chi è che cammina in acqua così? lui oh c'è pure lo scudo ma così? no no Joe mette le piramidi non è un coglione Marzo a me mi pareva uno più babbo no 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 Joe guarda che cuore mi è andato di culo che l'ho one bombato eh non era un coglione te lo assicuro bello il cecchino quello god oh ma ho tolto tutti i materiali hai bisogno di materiali? ne ho 200 vieni che cos'hai per caso dei colpi di cecco? vieni grazie ma il piccone così è più efficiente del mio e apposta io uso i piccoli quelli lì basic comunque Marzone Trimone col personaggio di colore in realtà non lo vedo più stanno sotto di noi ho mangiato tanto cazzo quello che vuoi ammazzarlo c'è un altro gente dietro di me gente dietro di me prendi le cose Giorgio forti eh li ho presi in 360 ma col cecco? si ok Marzone l'ho recitato alla merda ma le mie pozzette quelle che mi hai appena assurato erano 4 dai Gio dammene una no perché una? no oh tua madre quella buchinara di merda a west vicini si vai sopra di me è uno? mi sa di si mi sa di si non è una bella goal Marzone dimmi dov'è perché non lo so penso sia sopra di me uno l'ho ma no il razzo quazia com'è possibile che mi ha sparato? spari Marzone ok ok guardami il tempo di arrivare grande Marzone no no proprio di spari sai per ammazzarlo senti che cosa c'hai un pelino di di scudo questa barriera comunque ragazzi è tipo la cosa dell'assurdo ho fatto delle robe ho fatto un paio di robe assurde tipo questo qua con 30 di vita l'ho preso in edge odd incredibile a me mi sembra uno più babbo dell'altro no vabbè no sì alcuni non erano molto scarsi non mi pare cioè non più scarsi da me poi c'è un Mertic non ho capito oh li vedo ce l'ho davanti ok l'ho visto anche Giorgio Giorgio Marzone colpa alla volta Giorgio l'ho preso al volo Giorgio l'ho preso al volo Giorgio sono un fenomeno fatto una roba assurda l'ho visto l'ho visto bravo Marzone no ma non ci posso credere devi fare la thumbnail di quasi amici guarda ti dato uno io nel dubbio mi curo ok può essere uno ce l'ho povo sopra no 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 mi sto dando le ban mi sto dando le ban bravo c'è qualcosa con cui posso curare io si un bidone tutte e due due bidoni era uno no no l'altro ha ammazzato io ragazzi io gioco solo con trimone è finita ma in che senso stavo a far metti bombe no ma si ma non hai idea ma certe alcune che ho fatto sono completamente fuori dalla mia portata hai sparato tu si ce l'ho davanti west 2.59 sulla casa vedo no te l'ho portato che ma io sto con lui non mi entra un po' ok l'altro è tuo Marzò ma dove sta non lo so lo devi fare tu l'altro sotto di me da qualche parte sotto di me è infilato aspetta ricaricando il cecco un po' sotto da qualche parte c'è una scala qualcosa eh ma l'hai ammazzato quello noccato si si e dove sta sotto infonifon giù 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 ah io se lo trovo lo foto più che volentieri noi andiamo in safe eh no no ma tanto andrà il loot dell'amico il loot dell'amico è qua sotto di noi e infatti lo sto guardando appena arriva mi lancio come va va fra no 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 Marzò qua la devi fare cioè questo è proprio youtube ciao youtube ciao youtube cioè 22 kg 11 no sì ma poi c'è come mate come sembra cioè boh sembra fatto tutto apposta è dentro la casa sicuro ce l'è dietro ce l'è dietro Marzani io mi salvo almeno dai Marzani non lo puoi far mangiare dalla festa eh no e se n'è andato dai ma è un pippone era il gameplay della vita e tu l'hai bruciato vabbè comunque c'è still ragazzi è molto è molto importante lo dobbiamo fare per Paolo Cannone che c'ho stato trimone better than in ninja di Bari oh ma che schifo oggi ciao 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 ciao